Credit News oggi è al Banking Summit, siamo in compagnia di Massimo Proverbio di Intesa San Paolo. Abbiamo a lungo assistito a delle tavole rotonde in cui si è parlato di tecnologia nell'ambito finanziario soprattutto. Ma i timori iniziali su questa nuova rivoluzione tecnologica continuano ad essere persistenti? Ci sono effettivamente delle paure che è giusto coltivare oppure quei famosi timori erano non adeguati e non adatti a questo momento? Io ritengo che è una nuova tecnologia, come tutte le tecnologie comporta opportunità e rischi problematiche da gestire. Credo onestamente che vada enfatizzata al lato opportunità da questo punto di vista. La generativa AI, che è quella che genera più perplessità, alla fine non è nient'altro che un insieme di numeri riaggregati statisticamente. Aver paura di questo non credo sia corretto. Viceversa c'è un'opportunità enorme di aumentare la produttività in un paese come il nostro, che ha diversi problemi di produttività legata all'immigrazione di bassa qualità, scarsa partecipazione del lavoro femminile e natalità in decremento. Quindi per il nostro paese in particolare questa deve essere vista come un'opportunità da accogliere. C'è un problema anche di competenze vista questa rivoluzione tecnologica? Sicuramente se è un'opportunità la generativa AI e l'intelligenza artificiale in generale, è chiaro che deve cambiare il profilo di competenza che abbiamo a disposizione e in pratica bisogna far sì che ci sia più adesione all'università, più università quantitative, quelle che vengono chiamate STEM, diciamo anche economia quantitativa, pianificazione e controllo e via di seguito sono università quantitative, quindi vanno al di là dell'acronimo STEM, ma è l'elemento fondamentale che ci consente di passare attraverso un transitorio che può essere problematico come compito in primo luogo delle istituzioni e poi anche delle imprese come la nostra che hanno la dimensione giusta, gestire in maniera efficace ed essere efficace questo transitorio essendo, come dire, socialmente responsabili. Però è un transitorio, come dicevo, che va semplicemente gestito. L'intelligenza artificiale può avere dei bias e se ci sono dei bias in ambito finanziario può essere un problema molto serio. Come si possono gestire queste problematiche? Ma guardi, noi come Intesa San Paolo abbiamo avviato già prima delle I-Act, progetti di intelligenza artificiale, avendo un framework interno molto chiaro. Abbiamo stabilito cinque principi chiave, poi ce ne sono altri. Il primo è il controllo dei bias, quindi si può controllare che le soluzioni e le basi dati di partenza non abbiano bias e noi lo facciamo in tutti gli use case, che siano spiegabili, che si basino su dati di qualità e che abbiano sempre un persona, un umano, viene chiamato human in the loop in inglese, e c'è sempre. Quindi fa parte del discorso che facevamo prima. Non è da temere l'intelligenza artificiale, ci sono dei problemi, basta affrontarli e gestirli con professionalità. Grazie. Grazie.